Le aziende agricole italiane diminuiscono di numero, ma aumentano di dimensioni. Si chiama accentramento della proprietà e va di pari passo con la meccanizzazione di colture sempre più intensive. Secondo i dati Istat, in poco meno di 40 anni sono infatti scomparse in Italia due aziende agricole su tre. Quelle rimaste sono però di dimensioni decisamente più grandi, tanto che oggi gli ettari coltivati da ognuna di esse sono in media più del doppio rispetto a quelli coltivati a inizio anni Ottanta. La crescita delle aziende, come spesso avviene, non è però andata di pari passo all'incremento della manodopera. Anzi, nel giro di 40 anni il settore ha perso circa il 30% della forza lavoro. Inoltre, ad annaspare è anche il carattere tradizionalmente familiare dell'industria agricola italiana. Se da un lato è vero che la maggior parte delle aziende continua ad essere gestita in questo modo, è altrettanto vero che negli ultimi anni il settore ha progressivamente incorporato manodopera di tipo diverso. I dipendenti agricoli senza legami di sangue con i propri datori di lavoro erano nel 2020 quasi la metà del totale, ovvero più del doppio rispetto a quanto avveniva solo dieci anni prima. Il tutto in perfetta linea con i paradigmi economici attuali, volti ad affrancare sempre di più il piano lavorativo da quello esistenziale, in modo che le persone con la loro storia e la loro complessità possano essere progressivamente sostituite da lavoratori fluidi, intercambiabili e adattabili a qualunque circostanza, perché passare da coltivatori a coltivati è ormai un attimo.